Una vetrina tutta grigia per sostenere l'Alessandria a calcio? Assolutamente sì, siamo sempre vicini all'Alessandria a calcio, da sempre e in questo momento ancora di più. Guarda, per scaravanzia non dico nulla, solo tanta fede, tanta speranza. In questo momento effettivamente l'Alessandria sta dimostrando tutta la forza che ha e quindi incrociamo le dita. Il nostro presidente tifoso, lei se l'aspettava una ripresa così dell'Alessandria? Sinceramente, viste alcune partite, le vedo tutte, no, però siamo lì, siamo a un punto, due partite dalla fine, bisogna crederci. Sono solo 47 anni, credendo e scherzando che non ne era dritta una, quindi potrebbe anche essere l'ora giusta. La speranza è l'ultima a morire, ci crediamo, come sempre abbiamo fatto, abbiamo allestito una vetrina proprio per sostenere la nostra squadra, non potendo partecipare di persona allo stadio, è un piccolo sostegno da parte del commerciante. Quando abbiamo fatto la stagione sempre davanti, purtroppo è andata male, questa volta abbiamo inseguito, secondo me, insomma, ci sono tutte le prospettive per andare avanti ancora. Non ce l'aspettavamo una cosa così, è stata una cosa che spero funzioni come al contrario di come è successo quattro anni fa, e quindi la nostra speranza è solo quella. Io ho un'immensa fiducia nel mister, perché da quando è arrivato Longo io ho visto veramente un grande cambiamento nella squadra, non solo dal punto di vista del gioco, ma anche nell'atteggiamento dei ragazzi in campo e quindi sono fiduciosa. Poi come massimo non dico come andrà, dita incrociata e forza grigi. Come la vedi questa partita? No, la vedo che siccome abbiamo sempre perso, domani è la volta buona, domenica è la volta buona.